Partiamo oggi, oggi la posa della prima pietra e diciamo che termineremo i miei lavori entro il 2016. Sono lavori complessi, complicati, lunghi, importanti. Questo è un punto di eccellenza della sanità lombarda italiana. Con questo intervento lo renderemo ancora più forte, ancora più disponibile. Nel 2016 ci sarà uno degli ospedali più moderni del mondo, veramente uno dei più moderni e dei più belli del mondo. E qui adesso inauguriamo una struttura nuova destinata ad ospitare gli uffici dell'Asla, ecologicamente compatibile, spaziosa, con spazi destinati ai disabili, ai non vedenti. Per fare una sanità eccellente occorrono anche, come naturale che sia, strutture architettoniche sempre più adeguate. E occorrono apprezzature, macchinari, tecnologie, le più avanzate. E poi l'incontro con tanti, tantissimi medici, infermieri, nei volti dei quali si vede la determinazione ad andare avanti a costruire sempre di più una sanità eccezionale. Grazie a Brescia, ci rivediamo presto. Grazie a Brescia.